scattano domani le misure antismog di primo livello con Brescia anche Bergamo da quattro giorni consecutivi ha registrato valori di PM10 oltre i limiti di legge c'è anche l'emendamento per la metro di Brescia tra quelli presentati dal deputato Fabrizio Benzoni di azione alla manovra economica premio a 50 studenti che si sono distinti a scuola ieri assegnati da viscibre agro bresciano primi studio 2024 la console di sperche centrale batte la penne e vola in testa la classifica di A2 la soddisfazione di coach Zambonardi siamo una banca fatta di persone per le persone abbiamo radici forti e solide la fiducia dei nostri clienti è la nostra forza da oltre 125 anni vicini a imprese e famiglie bcc agro bresciano sempre al tuo fianco per costruire un futuro migliore buonasera dal telegiornale dunque da domani scattano le misure di primo livello misure anti smog dopo alcuni giorni di superamento massimo dei limiti di PM10 vista la prolungata assenza di piogge c'era da aspettarselo in più le temperature sempre più rigide hanno spinto la maggior parte dei bresciani ad arrendersi e nonostante il sole ad accendere gli impianti di riscaldamento sta di fatto con poi in tutta la Lombardia la qualità dell'aria è peggiorata e questo ha portato alla decisione di attivare da martedì 19 novembre le misure temporanee di primo livello in otto province Brescia e Bergamo sono le province peggiori con quattro giorni consecutivi di superamento dei limiti di PM10 sono tre invece per Milano Monza Pavia Lodi e Cremona due infine per Mantova le misure anti smog di primo livello saranno attive nei comuni con più di 30.000 abitanti e nei restanti che hanno deciso di aderire su base volontaria fra le norme in vigore il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi anche se dotati di fab filtro anti particolato efficace o aderenti a servizio movin in tutti i comuni delle province interessate saranno inoltre vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a mio massa legnosa fino a tre stelle comprese il divieto di spandimento dei liquami zootecnici la riduzione di un grado centigrado delle temperature massime nelle abitazioni il divieto di qualsiasi tipo di combustione all'aperto nei prossimi giorni in base all'evoluzione delle condizioni meteo sarà valutata l'eventuale disattivazione di queste misure e parliamo appunto nel servizio di evoluzione della situazione meteo ed è prevista per i prossimi giorni addirittura la neve a bassa quota vediamo ben trovati in aggiornamento con i tg di 3b importanti novità in questa settimana sul vecchio continente perché l'inverno busserà le porte di molti stati con questa colata di aria molto fredda che dalle isole svalbard sta raggiungendo in queste ore il cuore del nostro continente a nord delle alpi nei prossimi giorni dicevamo vero inverno con neve in pianura e venti di burrasca sull'italia il maltempo arriverà nella giornata di mercoledì un primo fronte apporterà instabilità il centro sud con piogge temporali e nevicate sulle alpi settentrionali venti tutti disposti di maestrale tramontana mareggiate sulle coste esposte versate tirrenico giovedì invece ecco qui la seconda perturbazione con ancora instabilità piogge rovesci in arrivo al centro sud precipitazioni anche al nord con la mappa possiamo notare le nevicate attese nella giornata appunto di giovedì molti modelli ce le mostrano a quote di bassa collina tra altri veneto la lombardia il piemonte quindi anche torino milano potrebbero vedere dei fiocchi di neve ma anche alcuni capoluoghi di provincia del veneto nevicate più abbondanti ovviamente in quota sulle alpi occidentali neve attesa anche nella città di aosta seguite gli aggiornamenti perché appunto nei prossimi giorni ci sarà parecchia instabilità invernale sull'italia maggiori dettagli quindi su trevi metri sul nostro sito web siamo alla cronaca con l'incidente di benizzore il 29 anni investito purtroppo non ce l'ha fatta e morto qualche ora dopo al civile di brescia non ce l'ha fatta nicolas gaston pascal urgoiti il 29enne che venerdì sera poco prima della mezzanotte era stato investito da un'automobile in via brescia fra benizzole e nuvoliera il suo cuore ha smesso di battere sabato sera all'ospedale civile di brescia dove era stato ricoverato in condizioni disperate il ragazzo di origini uruguayane era stato travolto mentre camminava a bordo strada alla guida dell'auto c'era un 61enne sempre di benizzole che dopo l'investimento aveva provato a dileguarsi ma senza successo infatti i carabinieri lo avevano rintracciato poco dopo ed era stato denunciato per lesioni gravissime e omissione di soccorso era inoltre risultato positivo all'alcol test le alcuse si sono poi ovviamente aggravate al seguito della sopraggiunta morte del giovane passando omicidio stradale le indagini ora sono dei carabinieri vi porto sul nostro giornale online perché ci sono stati due incidenti gravi a desenzano e orzi nuovi quest'oggi tutti e due hanno coinvolto motociclisti e allora andiamo nel dettaglio il primo è avvenuto intorno alle 15 in via gramsci ad avere la peggio è stato un centauro che è stato sbalzato dalla propria moto dopo lo schianto con un secondo veicolo sul posto per i soccorsi un'ambulanza automedica dopo le prime cure direttamente sul luogo dell'incidente il trasporto poi in gravi condizioni al vicino ospedale di desenzano l'altro incidente invece ad orzi nuovi abbiamo detto il giovane coinvolto a 18 anni il fatto è venuto intorno alle 16 sulla provinciale 11 orzi nuovi anche in questo caso il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso la politica adesso con gli emendamenti alla manovra che parla anche bresciano emendamenti che parlano è bresciano perché il deputato di azione fabrizio benzoni ha presentato anche l'emendamento per riportare quel milione che al momento rimane sottratto al trasferimento di denaro dallo stato al come ai comuni per la nostra metropolitana arriva settimana prossima in commissione bilancio la manovra di questo governo ed è una manovra per noi insoddisfacente per quattro ragioni uno perché non incide sui tre temi fondamentali la sanità l'istruzione è la cosa più drammatica toglie l'ottanta per cento del fondo automotive in un momento in cui l'automotive quindi un intero settore un'intera filiera che a breccia conosciamo bene è in difficoltà e togliamo le risorse e la quarta ragione perché tutta questa manovra si paga attraverso i tagli ai leienti locali quindi alle amministrazioni comunali e alle regioni lombardia solo quella vale 320 milioni di tagli e allora la nostra è una contramanovra 12 miliardi di coperture 12 miliardi di spesa per rimettere al centro la sanità l'impresa delle politiche industriali l'istruzione e un pezzettino anche di brescia perché ci sarà sia l'emendamento per ricostituire il milione di euro verso la metropolitana di brescia sia per ricostituire il fondo del bando bellezza di cui sono vincitori alcuni comuni bresciani come pisogne e borgostatoio sono emendamenti ma sui quali voi avete dato anche indicazioni di coperture assolutamente sì le coperture e non sono assolutamente quelle degli enti locali ma sono coperture serie ragionevoli che possono essere costituite è partita oggi la campagna di informazione di aprica per sensibilizzare sul fuori cassonetto ovvero sull'abbandono dei rifiuti proprio fuori dal cassonetto ogni cassonetto scusate la ripetizione è stato dotato di occhi per sensibilizzare chi va a conferire rifiuti insomma viene viene guardato sott'occhio viene tenuto sott'occhio il cassonetto animato che osserva i cittadini e li invita a fare la scelta giusta è la nuova campagna di comunicazione che comune di brescia 2a e aprica lanciano per poter combattere l'abbandono dei rifiuti protagonista della campagna il cassonetto che ti vede con gli occhi grandi e vigili collocato nelle aree strategiche della città i cassonetti diventano veri e propri personaggi che tramite un linguaggio diretto scrutano e ammoniscono chiunque si avvicini invitando implicitamente a depositare i rifiuti in modo corretto due le versioni del cassonetto animato per affissioni social e digital sorridente verso chi conferisce correttamente i rifiuti azionando la calotta severo intransigente verso chi invece li abbandona per strada la campagna ribadisce inoltre che la tessera per l'apertura della calotta è utilizzabile senza limiti e senza costi aggiuntivi sulla tari al contrario l'abbandono dei sacchetti comporta una sanzione l'obiettivo è di far riflettere i cittadini sulle conseguenze del littering con impatti non solo ambientali ma anche economici perché i comportamenti scorretti di pochi generano costi per l'intera comunità l'iniziativa è parte di una strategia più ampia che abbine educazione e sensibilizzazione a misure di controllo le attività didattiche nelle scuole e nei quartieri alle guide multilingue per raggiungere anche la comunità straniere la polizia locale ha inoltre integrato il nucleo antidegrado con nuovi agenti per sanzionare eventuali illeciti c'è da dire che insomma perlomeno in questa prima giornata i cittadini non sembra molto spaventati avete visto la prima immagine dove accanto al cassonetto purtroppo c'era il fuori cassonetto che tanto si cerca di combattere vedremo poi nel corso della campagna intanto domani dobbiamo ricordarvi l'abbiamo fatto nei giorni scorsi ma ve lo ricordiamo anche oggi visto che mancano poche ore all'avvio dello sciopero di arriva previsto per la giornata di domani non sembra prospettarsi una conciliazione in seno ad arriva la società di trasporto attiva anche su brescia sia a livello urbano che extraurbano la rsu della sede bresciana ha infatti indetto un nuovo sciopero di 24 ore per martedì 19 novembre con possibili disagi sui vari servizi di trasporto gestiti dall'azienda iniziando dalla città le linee interessate dall'agitazione potrebbero essere la 7 la 10 e la 13 per quanto invece riguarda il trasporto extraurbano attenzione alle sottoreti gestite dai consorsi trasporti brescia nord e trasporti brescia sud essendo un giorno feriale vi saranno le consuete fasce di garanzia del servizio dalle 6 alle 9 e dalle 11 e 30 alle 14 e 30 qualche disagio potrebbe però esserci a ridosso degli orari di inizio e termine dello sciopero in considerazione dei tempi tecnici necessari all'attestazione dei vari capilinea la rsu della sede operativa di arriva italia brescia aveva già scioperato lo scorso 29 ottobre ma in quel caso era un'agitazione di 4 ore nel solo pomeriggio adesso parliamo invece di treni della metropolitana che sono stati decorati da uno street artist e fra l'altro lavori non solamente sui treni ma anche nella sede di brescia mobilità da dove nata l'idea del vestito per questo palazzo allora nasce nel corso degli anni acquisendo una mia cifra stilistica mio stile personale che poi diventa a volte c'è una texture e da questo nasce il concetto del vestire poi nella costruzione di questi progetti nasce proprio cosa posso fare per questo lavoro parto da architettonicamente da come partire a costruire questo labirinto cioè che o come lo si voglia chiamare ogni ogni mura la sua particolarità da 9 nasce e basta e in seguito alle forme e ci ragiono sui colori su quale sia il suo colore che deve andarci per la metro invece per il treno un altro colore per il treno un altro colore perché avevo in testa quel colore della cia da quando avevo ce l'ho me lo sono un progettato sapevo che lo fare quel tipo di colore per quel tipo di progetto così rientrano entrambi nelle mie gambe di colori che uso per se permette di mia libera espressione quindi sono andato così la metropolitana nasce già con una bella infrastruttura le sue stazioni monumentali le pavimentazioni la finestra con l'illuminazione naturale dall'alto in questi anni abbiamo fatto tanti passi in avanti che si aggiungono rispetto a questo dato di partenza già pure molto positivo con nuove installazioni artistiche alcune diciamo di natura temporanea altre di natura strutturale che oggi coinvolgono anche il deposito quindi diciamo il capolinea sud e la flotta quindi tre dei 18 treni in servizio hanno una colorazione hanno una cromatura tale da renderli anche molto accattivanti vediamo del premio allo studio l'appuntamento annuale di bcc agrobresciano è andato in scena anche ieri premiati 50 studenti un bambino un insegnante un libro e una penna possono cambiare il mondo l'istruzione è l'unica soluzione l'istruzione è la prima cosa discorso alle nazioni unite ci sono ancora i ragazzi bravi che studiano che si applicano che hanno risultati assolutamente sì soprattutto le nostre ragazze sono bravissime e anche quest'anno ne premieremo più di 50 studenti meritevoli e fra questa la maggioranza tutte ragazze in modo che siamo molto contenti di questa iniziativa di questa festa che facciamo agrobresciano si è sempre spesa e ha avuto sempre attenzione per la cultura perché studia perché si impegna e anche quest'anno dimostriamo il 22esimo anno e continueremo ancora su questa strada premiare chi si merita è veramente è che si è impegnato che ha studiato fra i nostri soci e i nostri clienti figli di soci ci fermiamo qualche istante e poi c'è la pagina la pagina dello sport a tra poco centro commerciale rondinelle ti conquista ad ogni acquisto situato in roncadelle è un elegante complesso con spazi ampi e accoglienti una vastissima gamma di opportunità per i tuoi acquisti centro commerciale rondinelle emozioni di shopping buona serata anche agli amici sportivi obbligatorio stasera in senso buono ovviamente partire dalla pallavolo perché la console di sferche centrale l'Atlantide ha battuto ieri Ravenna ed è volata in testa alla classifica di A2 una vittoria importante quanto sofferta sapevamo che Ravenna era capolista non a caso è una squadra molto forte sapevamo se abbia stato una battaglia abbiamo giocato molto bene alla fine abbiamo rischiato la beffa ma soprattutto per merito di Ravenna i ragazzi sono stati molto bravi con la determinazione che hanno avuto anche a Fano con la cattiveria e la voglia di vincere e tre punti importanti che denotano un valore tecnico ma anche caratteriale umano importante vittoria da tre punti contro Ravenna che era la capolista in un palazzetto caldissimo con dei giovani talenti che danno sempre tutto sul campo e si è visto anche oggi che non hanno mai mollato tutti i palloni e ci hanno riacciuffato nel quarto set nonostante ci fosse un grandissimo distacco quindi bravi a noi a rimanere sempre concentrati in questa grandissima bolgia e ci teniamo stretti questi tre punti che ci mandano nella prima posizione Vittorio anche per la Germani, Pallacanestro Brescia le parole di coach poeta nelle dopo partite Sono super super contento, secondo me abbiamo fatto una gran partita contro una grande squadra e soprattutto siamo stati bravi perché a Valencia abbiamo iniziato molto bene in attacco con il nostro flusso di gioco e come volevamo Poi Tortona, da grande squadra qual è, ha adalzato l'intensità difensiva ha messo le mani addosso con questo roster lungo che ha ed è tornato in partita e è tornato avanti adesso non ricordo più 6, più 5, più 6, qualcosa del genere però siamo stati bravi a compattarci e poi addirittura, mi fa spesso per me dirlo, ma vincere con la difesa la nostra squadra non ha dato proprio grandi dimostrazioni di essere una squadra particolarmente difensiva nelle prime giornate però i ragazzi hanno dimostrato quanto ci tengono, quanto cuore hanno e che se vogliono, come ho detto in più occasioni, possiamo alzare l'intensità anche dietro e l'asticella anche dietro, abbiamo concesso un ultimo quarto a 12 punti e questo mi riempie d'orgoglio e niente, veramente sono estremamente contento abbiamo vinto a rimbalzo contro una squadra molto grande fisicamente che gioca con Stroudins nel 3, Gorham nel 4, Camagate una squadra grande che fa le coppe siamo riusciti a tenere botte a rimbalzo abbiamo fatto solo 11 palle perse conto una squadra fisica, quindi tante, tante, tante note positive potremmo dire che è stata la domenica molto felice per le squadre bresciane perché c'è anche la vittoria della N-Palla Nuoto Brescia Trieste 11 a 15 una N-Brescia in stato di grazia non si lascia intimorire nemmeno dalla doppia trasferta in due giorni e volando da Strasburgo a Trieste senza nemmeno passare da casa riesce a conquistare la 14esima vittoria consecutiva battendo gli avversari 11 a 15 questo successo vale il mantenimento del primato nella massima serie ma sempre condiviso con la solita Recco a sua volta vincente contro Ortigia 14 a 11 le due compagini hanno attualmente la stessa differenza reti 50 le calottine bresciane segnano di più 95 reti per i leoni contro le 85 dei Liguri ma incassano anche maggiormente Brescia ha infatti subito 45 gol mentre Recco 10 in meno è stata una vittoria importante solitamente abbiamo sempre faticato in questa piscina e anche oggi è stata una sfida combattuta come ci aspettavamo ha detto coach Sandro Bovo al termine del match in attacco i ragazzi mi sono piaciuti mentre dietro senza togliere meriti al loro attacco possiamo fare meglio dobbiamo eliminare qualche disattenzione che abbiamo commesso è tutto mi fermo con questa edizione del giornale le notizie non si fermano continuano invece ad aggiornarsi sul nostro giornale online livebrecia.tv eccolo sul quale trovate come sempre la diretta del nostro canale 181 delle digitali terrestre ma tutto il mondo di Alive è come sempre nella nostra app che è downloadabile da Apple Store e da Google Play come sempre notizie nei nostri canali Telegram e Whatsapp e poi sui profili Instagram e Facebook grazie per essere stati con noi per averci scelto buona serata a tutti ci vediamo domani Grazie a tutti